La dimostrazione che purtroppo sono gesti fatti veramente senza pensare le conseguenze per una squadra di calcio, veramente c'è da pensare, ti fa pensare, ti fa veramente rimanere molto male. Sto bene, mi dispiace di aver scritto un altro record, non è mai accaduto, quindi evidentemente sono l'uomo dei record a Pescara. Mi dispiace perché purtroppo non è il gesto che è condannabile a prescindere, ma per quello che è stato fatto in questi anni per rilanciare il nome di Pescara, della città di Pescara e della squadra di calcio del Pescara e andare a salire alla ribalta delle cronache nazionali per un gesto come questo sicuramente non porta nulla di buono per il Pescara, non per Sebastiani. Dopo la sconfitta con la Lazio, anche i nostri microfoni, lei aveva detto che avrebbe rivisto la sua posizione al termine della stagione e che stava pensando, perché no, anche di lasciare la presidenza del Pescara alla luce di quello che è accaduto questa notte. Qual è ora il suo pensiero? No, ma io confermo quello che ho detto dopo la partita perché non l'ho detto a caldo, perché a mio avviso se una persona non è ben voluta, non deve stare a dispetto dei Santi perché per me non è un lavoro il Pescara, anzi, è un impegno oneroso, importante, che toglie spazio alla mia vita privata, alla mia famiglia, alle mie attività, quindi non ci devo stare per forza. Però purtroppo bisogna anche capire che questa è una città piena di chiacchiere, perché la realtà poi è un'altra e soprattutto si spingono le folle quasi all'odio su falsità evidenti, non è che quando sento dire dimettiti, io non faccio il politico che mi devo dimettere, questa non è società di capitali e se qualcuno deve sostituirci evidentemente deve prendere le nostre quote e noi andiamo a casa, quello sì. Io per stare qui ho messo dei soldi, ho messo impegno, ho messo passione, ho tolto dello spazio a me e alla mia famiglia e quindi se qualcuno vuole venire a prendere il mio posto la strada è non aperta, spalancata, non mi porterò mai sulla coscienza di lasciare una società solo per disfarmi di una società in mano a delinquenti, perché è la mia città e quindi a seguito di questo poi io valuterò tutto quello che avverrà, ma bisogna valutare quello che c'è, non quello che si chiacchiera, perché quello che si chiacchiera con le chiacchiere non si va da nessuna parte. Quando io poi sento parlare di offerte a destra e a sinistra e a me nessuno mi ha mai offerto nulla, anzi forse il contrario, allora lì capisci che c'è qualcosa che non va, il Pescara se si vuole acquistare bisogna fare delle offerte e non mettere le bombe. Grazie.